Qualche giorno con le quattro corsie percorribili e libere da ruspe avevano l'uso di vedere la bandiera a scacchi e invece ci sarà da appazientare ancora qualche settimana per raggiungere il completamento del cantiere lungo anni sul cavalcaferrovia De Sabata. Da qualche giorno si è infatti tornata ad insistere sul viadotto con la viabilità ridotta a due corsie ma l'infrastruttura prosegue come da cronoprogramma che vuole il traguardo finale nel mese di aprile. Sono stati rifatti i cordoli, le barriere e a breve dovremo reintervenire per realizzare quei giunti che consentiranno poi la giusta flessibilità, la giusta mobilità del cavalcaferrovie e poi andremo a realizzare una nuova illuminazione. Nel frattempo è già stata riasfaltata, abbiamo riasfaltato anche un tratto di via Solferino in un'altra zona nelle immediate vicinanze che aveva questo tipo di esigenze e quindi un investimento che a breve nella prima metà di aprile vedrà la sua conclusione definitiva anche se in realtà come dicevo già oggi il traffico è possibile sulle quattro corsie. In più abbiamo dei lavori importanti in fase di conclusione anche nel sottopasso dei cappuccini, un investimento anche quello importante finanziato tramite un bando che si è giudicato il comune di Pesaro che consente di andare a riqualificare una delle zone più degradate, più delicate anche della città. Andremo a realizzare questo sottopasso ciclo pedonale rispetto a quello precedente che era solo pedonale e anche con una certa ripidità, diciamo pendenza del percorso, ci sarà più luce, più verde, una riqualificazione generale come dicevo di un'area importante per la città.